come state metto spero come sempre alla grandissima ragazzi oggi siamo di nuovo qui con un live 2.0 su call of duty black ops 3 vi voglio portare ragazzi questo gameplay per farvi vedere la serie di punti più buggata secondo me del gioco che è il right è veramente assurdo quindi cerchiamo una partita e vediamo cosa esce fuori eccoci qua ragazzi la partita è appena iniziata siamo su anti modalità dominio che è una delle mie modalità preferite lasciatemi prendere i punti ok un urlo molto molto acuto oh shit guardate quanti ce n'erano lì che mi aspettavano già con la mia puntata non ci vado mai più lì mai più ok fatemi concentrare un pochino perché se no continuerò a morire a morire anche perché per me è difficile stare qui a commentare commentare e fare anche una bella partita dietro no no non ho fatto in tempo a straiarmi comunque 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 abbiamo recuperato un pochino occhio che mo perderemo a o no secondo me si butto una granatina lì quando la gente non muore gente non muore niente non vuole morire non vuole morire uh bella 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 così bella la c la stanno prendendo i nostri compares direi andare di qua b l'hanno presa loro uh ah stanno prendendo madonna ok buttiamola giù io direi di prenderci questa se riusciamo no 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 non riusciamo sto per morire lo so già 3 2 1 via da qui in acqua uh meno male meno male ci abbiamo fatta a scappare da lì ogni tanto anzi spesso guarderò dalla vostra parte perché vi trovate esattamente oh shit sopra la mini mappa questo è un bene ok devo comunque tenere d'occhio la mini mappa stanno prendendo b vediamo se qua riesco a prenderne qualcuno prendiamo alfa occhio occhio che arriva occhio che arriva dov'è 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 dio mio dio mio dio mio come mi son salvato santo cielo come mi son salvato occhio che questo arriverà da qua ho la minigun vediamo se con la minigun riesco a fare qualcosa occhio oh andiamo di là occhio che è morto mio compagno vieni 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 no non viene viene o non viene io ho paura di uscire adesso oh lanciamo l'hater oh ancora andiamo avanti andiamo avanti ragazzi che qua stiamo martellando occhio che arriveranno da sinistra mi stanno aspettando oh mi aspettava io adesso prendo charlie attenzione butto giù right adesso qua su b prendiamo questa e ci siamo via adesso o arrivano arrivano su arrivano arrivano di qua arrivano di qua allora questo è morto no aveva la minigun mi ha rotto la serie vediamo il right se ci fa fare un po di punti mamma mia guardate come spacca come spacca è una roba assurda veramente dove vai prendiamo v se ci riusciamo no si si ci riusciamo ci riusciamo granata lì occhio qua in acqua ce l'ho visto è morto perfetto così tra un po ci arriva un altro uavvi andiamo di qua sono tutti la dietro la cascata oddio avviciniamoci avviciniamoci qua dove vai dove vai vai via ancora ok prendo ci prendo ci prendo ci prendo ci prendo ci e me la tua gambe via adesso sua 18 3 benissimo benissimo mi allontano da qui perché sicuramente ecco lo sapevo che uscivano da lì vediamo se riesco a saltare qua dentro senza morire fuori uno occhio che adesso sanno che sono qui l'hanno ucciso no l'ha ucciso lui il mio compare è qua adesso prendiamo a prendiamo a venite a prendere a con me vi prego prendete a con me e ci siamo ragazzi ancora questo lo tengo per la per round seguente lo tengo per la seguente intanto continuerò a fare punti vediamo oh 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 dov'è 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 no no mamma mia come ci ha ucciso ripartiamo da qua è morto mio compagno occhio perché si è morto mio compagno qui sarà qui eccolo rientriamo qua dentro qua non ce ne sono e andiamo in acqua eccolo lì guardalo guardalo lì e finisce qua il primo round e andiamo ragazzi e andiamo ci abbiamo andiamo anche il right per il secondo round mamma mia sono qui sto giocando insieme al mio amico moreno 96 un saluto da qui grazie moreno di accompagnarmi in questa avventura e ripartiamo adesso ragazzi o l'hater al right possiamo fare solo delle belle partite l'hater lo butto tra poco perché non voglio sprecarlo subito così io sapete cosa faccio mi butto direttamente qua butto una granata vado qua butto l'hater oddio ne ho ucciso uno incredibilmente guardate quanti ce ne sono qua sopra salto qui uccido quello uccido questo salto qua dentro minigun oddio è qua dietro non si è neanche accorto questo neanche accorto io butto il right facciamo un po' di casino oh wow wow uscetto 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 vediamo se riesco a oh no 5 punti avevo il terzo right non ci posso credere uavì ufff dio santo mi son buttato proprio nel bordello più assurdo fuori uno il right guardate quante kill fa quante kill fa questo right nooo mi son buttato in bocca all'avversario vabbè ci vuole calma perché io a un certo punto inizio a perdere la testa e mi butto direttamente sugli avversari ma devo calmarmi un po' e concentrarmi eccolo lì andiamo di qua buttiamoci qua sopra vediamo se c'è qualcuno c'è nessuno qua dove saranno saranno tutti su amore non si fa una doppia stiamo perdendo c io a sto punto vado allora prendere c vediamo un po' questo è andato no 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 non posso morire tutte queste volte Granatina lì Uh stiamo perdendo B Occhio che stiamo perdendo B È andato Indietro mi hanno coperto Ancora No sto perdendo la calma Sto perdendo la pazienza Sto giocando ormai così tanto per Invece no devo giocare al meglio Occhio che ci arriva da dietro Ah ok alleato No ragazzi qua Stare attenti Sono nel covo nemico Perdiamo alfa Perdiamo charlie cosa non perdiamo Tutto stiamo perdendo Se riesco ad entrare In acqua Ok io mi giro qua Pazzarola l'ho mancato Mi sono fatto scoprire Andiamoci in acqua No vado a prendere charlie I miei compagni sono qui Aspettatemi Aspettate no Per poco 200 punti all'UAV Oh si Così si fa Così Dio mio che non moriva Oh mio dio Fatemi ricaricare UAV Io vado via da qua Non mi fido Mio dio era qua sopra Niente usciamo Là non c'è nessuno Prendiamo allora Dai aiutami a prenderà Aiutami 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 Ci siamo Mettiamola Minigun Iniziamo a martellare No Madonna in due Siamo qui con la minigun Occhio Charlie l'ha pian persa Boom No No 150 punti al terzo All right Mannaggia me Mannaggia Che rabbia Che rabbia Morire così Abbiamo perso Charlie Occhio perché Ecco lo sapevo E qua E qua E qua E qua E qua Vediamo se riesco A fargli il number Oh Dio mio Occhio Poi il mio stile E' finita E' finita ragazzi 41 9 Io direi Niente male Il right veramente Spacca Fa una serie Di kill Una Dietro L'altra Pazzesca Comunque ragazzi Io spero Che vi siate divertiti Che vi siate emozionati Come me E quindi A questo punto Ci vediamo al prossimo video Mi raccomando Lascia un bel pollicione su Metti il video tra i preferiti E condividilo Con i tuoi amici E ti ricordo come sempre Che se non sei iscritto E sei nuovo sul canale Ti puoi iscrivervi Per vedere i prossimi video A questo punto Io vi saluto Come sempre Fate i bravi Ciao ragazzi